tv c'ho una tv con me una britta tv andiamo, consentiamo e prendiamoci la vittoria ero disperato ci vuole, ci vuole un mezzo per Alevi e lo manda a fanculo Ale, 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 guarda la clip commesso, guarda Paolo cagliato eh che cazzo, aspetta, mandiamoci vista oh invitato un mezzo al lobby porco diaz ah ma dal party non vai, che dal cab non vai porco dia ma ancora non l'ha messa a posto l'audio è ancora una merda ca troia quante scie blu vabbè mi inviti? qualcuno, Vincenzo devi invitare me, Paolo, perché? no, Vincenzo offline adesso sto entrando adesso sto entrando un minuto minuto porco dia, un quarto d'ora devo spegnere c'è, non so, sono già le 11 ah vabbè, ah, ah, ma scherzo ce la c***a vabbè in controlli, ah quelli che in controlli, ragazze, amiche, sono rimasto di merda oggi minchia, questi non hanno già neanche la scia a parte che non ho visto la squadra scusate, il periodo Valkyrie è già passato argento 2 eh 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 come sempre, eh beh, eh sì eh eh l'altro dov'è? ahahah lì c'è il lobby ahahah qui c'è una spitfire apriamo le danze eh beh, c'è giusto si, si, si la Valkyrie comunque devassa la Valkyrie la Valkyrie la Valkyrie la Valkyrie la Valkyrie qui c'è un flatline qui ci sono munizioni per cecchino più veloce, più veloce, più veloce poi ora un nabbo c'è un nabbo c'è un nabbo aspetta, aspetta vince ma mentre mentre ne ho noccati ahahahah mentre ne ho noccati due vince, mentre ne ho noccati due quello ancora in vista quando stava facendo era coglione di funghi e le margheritine si, si, si no, ora poi 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 non era sicura dei due the教 parentheses mi hanno fatto il integr加 il cuore non sai cosa è il bello che è sceso il skipper il bello carico non l'ha preso una volta una 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 io adesso sei 100 danni da terra io forco zio hai fatto cagare Paolo toch let's go questa life line vorrei essere scoprata mi dissocio la spaccatura che ci credono non c'è una partita che faccio anche calmo a casa qui ci sono azioni pesate è inutile che mandi le peggiativa tanto l'arco è qualcosa di buono sono sotto ai loro c'è l'ottura di quella casa per primo e siamo andati su un cazzo di buco di culo non abbiamo armi parlati con l'arco io ho un argento 2 e un oro 2 potrei mangiare la nostra lobby perchè i campioni tu hai avuto allora avrai tutti tv ah cecchino e pompa io non so che cosa sia ma cosa mi fa paura marco è un schericato gioco cecchino e pompa c'è un cargo stronzo concordo dai siamo presi il contesto con una casa autare in 3 ap mi serve un caricatore leggero esteso attenzione che c'è good boys on fire portali qua attenzione nuovo leader uccisioni attenzione nuovo leader uccisioni andiamo 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 ciao e visto che c'avete una bungalow sempre in squadra e soprattutto perchè non si bocca mai dove andiamo ci volte grazie è stato giù flatline al posto della spitfery va ma perchè stiamo andando a cercare di farci uccidere non ho capito amici qui c'è un peacekeeper abbiamo un nuovo leader uccisioni fai già loot eh qua è già aperto occhio qui c'è un otturatore per shotgun non è vero che i clienti mi affettavano mi pare che ha sentito i passi andiamo a cercare qua qui c'è un bocek qui c'è un bocek il potere della caccia vi scorerà nelle vene si no è un'erba non è loot no no mi chiede anche uno zaino blu porca puttana allora è la mia impressione o gli zaini di scuditi sono si sono un pochissimi la galaxia giù ho preso pick up si vola non è la mia impressione figa c'è giù un'altra da spitfery il caricatore blu l'ho lasciato giù sinistro no aumenteranno sicuramente il loot in questi giorni spero perchè almeno lo zaino scudi per amore del cielo quella lì più veloce già scendi già con uno scudo quindi l'ho preso l'ho preso l'ho preso cia sa mai ogni volta round 2 inizio controlla rovescia anello abbiamo l'unico si chiude da noi siamo dentro l'anello siamo vicino a noi però ho individuato il possibile seguite la mappa controlliamo quella zona si chiude proprio vicino a noi se per caso hai il 3x sull'arco ti do cioè il 2x sull'arco ti do 3x andiamo da questa parte c'è il 2x 3 bravo vieni qua questo camion mi piace ehi ci sono dei nemici laggiù eh vabbè questi devono sparare a tutto quello che vedono vabbè raga craftiamo con calma dai questi muoiono non so io che questi muoiono fare bolt viola il zaino il digital penso di essere stata individuata il nemico laggiù ma strano che non sia inutato sono un fardo poco in arrivo no però che cazzo dovevo pick up a questo lato ricarico quello era l'ultimo bel lavoro qui ci sono delle frecce 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 qui c'è un hot up tempo cazzo tutto lo scuro in viola vabbè casino che fa sto coso madonna no vabbè vabbè mi stanno sparando apro il fuoco mi stanno sparando apro il fuoco ma che casino che fa la luce che fa la luce che fa con una canna con una canna mi sono presa qualche secondo per curarmi vabbè è scannato c'è una roccia c'è una roccia non per molto vabbè c'è una roccia vabbè 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 sono sotto tiro ricarico devo ricaricare i miei scudi ricarico mi sto curando ma anche qua è lutato la viola sta facendo 7 squadre ok vabbè saluta andogno stavano già dentro nei cannes watson caustic e rampart a loro madre la pecora no fanculo non mi sei arrestato mamma mia sto gioco mi farei un portal break non è possibile vai in porta manco qua è lutato eh vabbè eh vabbè eh vabbè che cazzo sono andati tutti un pacchetto riusci da fuori con così buono carino non posso parlare c'è un medici ti guardi i server se avete litigato quello è la è una casa l'eders eh la sotto forse eh mi crafto il digital io più che altro mi crafto il digital non c'è ancora pushato nessuno trammento no cazzo è un post apocalittico meglio prendere tipo il tetto di quella casa ehi 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 mi tengo ad occhio hai mica visto quella casa lì sì 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 è tanta quanti sono? non sono non sono il più straordinario comunque fammi trovare ma lì sopra? ah guarda è un gibo i robin hood si distruggono è tanta è il fight più silenzioso del mondo ma non ci prendono manco pagate questi non ci prendono non ci vediamo ma non ci prendono nemmeno eh ho fai il problema di fightarci quelli ma beh possiamo ultarli con la mia ulti e andare di cattivezza fra l'altro Vabbè Vabbè Qua non è voi? Sì, sì, sembra quello Siamo qua sopra? Eeeh E da là ti becchi la squadra da sopra è più centro che ti spara? Sì, proprio No? Sì, c'è un gipo, c'è un gipo, c'è un gipo Stai parlando con l'arco? Sì, sì, stanno con l'arco Due archi hanno, occhio, eh Occhio Eh, hanno due archi, hanno Mica, ha fatto headshot con l'arco Eh, andiamo di là, veloci Io ho sceso in terra con l'arco quello Devo bollarti? No, qua si è coberto Porca puttana Sei benedì alla Jones che corri con le trappole dietro con gli archi Sei pieno Ah, basta! Eh, arrivano pure quelli di a rompere la m***a Devo bollare, devo bollare, devo bollare Sì, infatti, sarebbe male, però vabbè, ormai fa niente Ma è una divertente battaglia Capito, Wraith? Cosa? Magari un TP Pensavo che eravate qua dietro Stavano stuprando via da lì sopra Di socio, di socio Ci sono i Predator, WTF Ma ci sono ancora oro uno, cazzo Raga, siamo questi qua Questi qua sono ancora sopra sul palazzo Devo ruotare Eh, li ho persi Ah, stanno volando, raga, occhio, eh Ma vengono? No, no Che cazzo è che spara con le frecce ancora? Io? No, ah, se tu mi spari Che partita di merda è, raga, mamma Qua si fight, però Certo, certo, è ovvio Quando sono partita così, sì Sono già perso dal mit Correre per la safe senza trovare nessuno Qua si fight hardissimi Eh, hanno già due knock, però Cioè, vabbè, ma anche le armi, figa Non c'è un cazzo, ma che è Ti, ma sono fuori stessi, però, che fight, no, raga Ma, sono lì, con lì Dovevo uscire dalla casa, eh Qua, 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 qua Qua, 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 davanti, ora Valkyria È in casa Cazzo, l'ho sticcata per un pelo Gli altri sono ancora in casa, raga, mi sa, eh Hittate, 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 hittate Hittate, con l'arc No, sono entrato là Knock Entra, entra, entra Apri, apri io, apri io Vincenzo? Ciao Ciao qua Mi serve uno zaino In casa Sto ancora là? Per me no Ma no, per me sa che era solo lei Mi chiamavo senza zaino Un po' di cazzo, sto gioco Ma è dentro, hittate Ah, io sono a posto, vai, vai Guardate, mi scusa C'era una scusa viola Ma dov'è tutta la roba? Ma che è? L'hai tirato anche tu? Nice Ma scusa, questa però non è morta subito Io non capisco Per me c'è qualcuno qua Della sua squadra No, tirano con l'arco C'è una batteri Con l'arco, con l'arco Dietro di noi, passi Ho sentito passi in sta zona, occhio Sì, sì, li sento, li sento È sotto? Eh, di sotto, di sotto, di sotto, di sotto Tanta Piati il punto, laga È il tatto, mezzo Flash L'avete sparato? Bravi Sì, sì In sopra c'è gente, c'è gente, c'è gente, c'è gente Bolo, boolo si fa in TP da qualche parte Ho bisogno di fetch Dov'è, 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 pingalo, pingalo, pingalo Qua No, qua, qua È easy, siamo in tre Minchia Easy, abbiamo la bolla, abbiamo la bolla Stai calmo? Stai calmo, ho urlato Stai urlato, mi ha urlato adesso, dopo gli dice Stai calmo No, stai calmo, nel senso È tutto sto controllo, no Ho urlato con già da sparare Niente, ci siamo accovacciati qua Ok, si fai tramontare Mi servono munizioni leggere È fatta L'ho appena preso Non l'ho ancora usato L'ultima squadra dov'è? Qui c'è un accelerante ultimate 106 la Valkyrie, l'ho demolita Porca Diozio Sì Se fai in testa 120 Ragazzi, se uno si mette qua con me Spariamo la Valkyrie, la annocchiamo Una busta di piscio No, cos'è Dobbiamo ruotare, raga Se spariamo la Valkyrie, la annocchiamo Ruotiamo di là Capsula assistenza in arrivo Prova già a fare un tipi da qualche parte Qua sotto l'ho bussato La Valkyrie, la Valkyrie, la busta di piscio Eh, niente, vabbè, dai No, per ruotare, raga Grazie, vado, dove vado, dove vado Divini, sapevo tu dove andare Da qualche parte Dove vado, dove vado No, sono top Gli ultati, gli ultati, tranquillo No Mincia quanta roba che ho I tati, i tati hard, eh Son lì, eh, son top Rotto, rotto uno, rotto uno Pia il TP, pia il TP Son sul TP che ti aspettano Va sotto, va sotto, va sotto Sì, 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 sì Pighiamolo quando non si chiude la safe Con calma, aspetta la mia bolla Tre dieci secondi, niente No Mi servono munizioni pesanti E dai, andiamo a piotti, dai Mi scioperce le munizioni pesanti Bolo lì vicino alla roccia, eh Bolo lì vicino alla roccia Sì, ma ci sono i figli di puttana Che sparano queste frecce Ce l'abbiamo sopra, raga Qua sopra, eh Dobbiamo pigliare il top della roccia In qualche maniera Lasciali stare quelli Devo affettare questi in close Qua Dopo di noi Ha ultato il gibo Non è mia, non è mia Scildatevi, raga Eh, ha ultato il gibo Ah, con l'arco ti hanno ucciso Proviamo sto arco 80 colpi Dove ne serviranno di più però Le visi dove sono? L'affianco Ma che cazzo Mi busci così Lo per Vincenzo Dimmelo Ma non me l'ho visto Perché vola C'ho sette team Vattene, vattene Fida, fida Fida, filati il punto Si stanno distruggendo Perché avevo una squadra a sinistra E l'hanno pushato così Come i deficienti No, no Non esco Sta restando Ma il pushate Ritardati No, no C'è un manegame Cerca di pigliare posizionamente Buono Questi mi stanno venendo a confermare Con la set che si chiude Quanto sono stupidi Tanto quanto pare Sì, anche perché Mi ha pushato dritta per dritta Con il team che c'ha Va alla sua destra Ma tipo poi Quando tu me l'hai chiamato Era flash Solo che non mi sono esposto troppo Perché proprio Sì, sì La flash Ho sparato via La flash No, questo è un posto di merda Raga Ci vediamo, campione Salve Rimane metà delle squadre Eh Mamma mia, vince però Sono con l'arco Non c'è possibile Mamma mia, Vincenzo La mira, porca troia Cosa? Qui c'è un kit medico Ti sei piantato alla mira, figlia Ma che cazzo di mira c'hai? È bassissima la sensibilità, no? Sì, sì Ecco perché Non lo vio, non lo metti danni Mannaggia te Vabbè Almeno non abbiamo fatto negativi Bello l'12 che diventa Carino Un pacchetto? No, attenzione 3, 2, dobbiamo un attimo Aprivo al pacchetto Dobbiamo Attenzione Diplo blu Let's go Ma perché non mi ascolta nessuno? Perché non mi ascolta nessuno? Perché ti mutano, Ale No, mica loro due I miei compagni Sto intendendo di girare a sinistra No, diamo like se ho i nemici Perché? Ma perché sono l'obbio Ale miglia Pusci tutti Porca zio Magari fosse così bello Ormai io ho la mentalità Del platino È una merda Senza contare diamanti Sono morto, sono morto Sì, sì, sbagliati Tipo confuso Un Markira Con una loba Cioè, proprio Muzie Una seconda Sto controllando i ditture Piri 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 Comunque l'arco Io non so come facciano a uccidere Ma Se lo tolgo appena trovo un'altra arma Perché non mi provano in libera Io non so perché è così tante difficoltà Trope sega Perché sei dalto minchia Minchia? Dalto Che cazzo vanno a sparare Minchia vengono v1 con Mirage Mi hanno preso loro Boh Io me lo caricavo blu Ma lasciala come la prevedicità Sì Nice Sono fuori mappa siam contestato Si mutano fuori mappa Guarda lì dobbia che stava Ma no Ma dici Ma dici Ieri ho visto streamy Che per non dare l'armor viola Si è lanciato fuori mappa togliendosi Dal video di coso di Come si chiama mai dire Mai dire Apex Guarda le casse qua Uno e due Prendigli e scommi Eh eh fatti Ma che cazzo fanno? Ma io non capisco Ma sei in due Ho scusato una blu raga lì eh Pronto Pronto? Pronto? Ora la vado a prendere Ora la vado a prendere Sto controllando l'area Da qualche parte Da qualche parte Cerca Non mi ricordo più MVP G7 E' pompa Mare che te ne sei andato da la? Della C'è una cazzo l'assistenza Degli MSP Come è che te ne sei andato da là? Eeeh Non è tan cacciato via Caccio il culo Sto controllando l'aria Tutto per uno scudo bianco Uno scudo giallo Vaffanculo va Dunque l'arco va a cagare L'arco va veramente a vomitare il cazzo Non lo uso più cazzo Più Ah beh se sparate così Vi spammo x Tanto ve lo meritate Sesso di sessismo Razzismo Dissocio A tutte le parole di ceste Ormai che si chiamava? Arradicchio No non so what shot E adesso muore Ah si lo conosco c'è l'ho Minchia Poi suonavo Ah Oddio che squadra No non ho capito No no L'ho già sentito L'ho già sentito L'ho già sentito Però non l'ha mai preso Nessun post Su Eeeh Ipsgossips C'è Ah mi sta di un'antipatia Questo che Non me ne è d'assurdo Vabbè Si me la gioco meglio Ti sento un cazzo e mezzo Che è un coglione assoluto È un coglione assoluto Porco Come si Sono lontanissimo Arco? Arco? Si 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 Io c'ho un g7 senza mirino Cazzo di racconto Si? Va ci pigliano Ma ho detto quell'arco questi Dammi tu cazzo Mi spero che comincio a spammare Spamma Spamma Oh si fa di noi Si fa di noi Si fa di noi In casa In casa In casa L'avrete L'avrete carcato L'avrete carcato Rotta l'avrete Rotta anche l'altro Mamma mia E' pk 3,99 ho fatto Porco zio Il cazzo Che han preso questi No ma il bk Non mi piace Non mi convince Infila sulle scale Infila 99 98 99 Soprattutto così Guardate i coglioni Levate via Ho fatto la viola No ma il bk Ma il bk Ma il bk Ha buscato a cazzo Ah no Ha buscato convinti in casa A me Lui Ma Niente Ha preso un gibo Col bk Sulle scale Ah avete visto il nuovo spot che ho visto oggi da Zellef, in queste case, vedete? Guarda qua, si si l'ho capito, ma non è vecchio se spot Ho ratto mai se spot, non so come si fa salire però No no, non in casa, aspetta No ma è tipo, boh non lo so come si fa, comunque era qua Ho appena scavessato le gambe No ma era qua, sulle scale lui Oh lo zaino No no no, era qua, era qua, sopra quel tubo, o sopra quell'altro, non so come si fa Qui c'è un flatline Si, 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 si Si, ma si è messo lì, è un posto della madonna Ma non ce l'ho mai visto questo Guarda roba te le c'ho, scarico Qui c'è un longbow Qui c'è un longbow Qui c'è un longbow Mamma mia quanti cinesi usa la piattaforma Eh, non c'ho spazio, non c'ho zaino da kill Non c'ho, non c'ho, non c'ho, non c'ho, non c'ho Non c'ho, non c'ho, non c'ho, non c'ho un cazzo Sto controllando l'arm qui ci sono delle frecce oh dio qua sta le frecce qui c'è un caricatore pesante esteso dove stiamo andando l'aria? perchè siamo in mezzo safe in open? cosa c'ha? niente fa gli scudi sono rari sto cazzo di gioco bilancia oscura schia no c'è la windball mi ha scato giù un bolt? raga teniamoci la l'anello è lontano e manca potremmo dare un'occhiata qui dai vedi minchia che spaggia cazzo ho bloccato giù un cardbot sparito vada dove l'ha avete spazio raga forse si forse no lo prendo lo prendo non siamo soli ah un zaino di merda sto cercando anche a me l'hanno messo la rustan ah la scu da roccia che cazzo va delle caprette di montagna dai dai che laga mi ha già demolito grazie allora io proverei a fightarli con un tp di backup tipo in casa magari no? qua 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 dove? andiamo qua? eh qua non volete fightarli? dobbiamo fightarli? eh ma c'hanno gli archi che scassano il cazzo aspettiamoli sefa aspettiamoli che vengono da noi questo arco devono però abbaffarlo raga fa troppo eh l'arco è troppo esagerato voglio abbassare la velocità di tiro o l'amato o non so se c'è uno solo sui due che hanno sparato cioè mi hanno tolto tutto mezzo scudo viola ci si tolgo un casino dopo un po' io non sono capace di usare l'ho provato prima e l'amato ma di minchia che mi spara ancora con l'arco ma no ma sento colpi qua da me che falle datemi un arco voi incazzo col triple ah no fallo venire in casa fallo venire in casa di giocare l'ho impianto il pick up un cura vabbè dai 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 che cos'è ma guarda dove spara oh da 200 metri guarda lì nooo tienilo tienilo su quello blu dai ma si può avere dodicicelle dove arrivano si coglioni è un scudo bianco cazzo non so voglio aspettare questi cretini che ruotano eh son di la non basta bene che ti spingono a usare niente se ne sono andati però non si può cazzo dai palle con questi archi raga però eh eh non sa che conviene togliere il g7 metto la carabina no metto col g7 dai non posso con triple c'è il g7 più skipper vedo dei nemici laggiù ma non capiamo la calma mi hai mollato? eh eh però figa c'ho giù il g7 dai me la rischio la c'ho giù il g7 per l'arco distrutta 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 doc vado a confermare dov'è? eh confermatelo voi raga che sto busciando sto sparando quelli sulla ziplank che gli ho messi in one shot è qua dentro, è qua dentro, è qua dentro sono tutti di qua che si fightano in correndosi eh va bene li dietro sono li dietro li dietro non venivano da noi tanto potrebbe esserci qualcosa da questa parte stiamo qua sono scappati con le ziplank di là sono scappati con le ziplank di là ecco ah ste cazzo di frecce che cazzo no vanno vanno di qua a sinistra raga dobbiamo giocare in giù qua nel market sto controllando Mario contatto con il nemico non vedo un cazzo non vedo un cazzo gli amici fritz sono sotto là stiamo fuori ma dove scazzi si sparono? mi stanno sparando e anche l'ultimo è a terra non capisco ah sono lì fuori safely dietro sotto il ponte si si che si fuori safely fightare va bene eh la vengono su da la? rotta flash knock no no vabbè fuori cioè siamo lontani però eh siamo lontani le luce eh però c'è volata lì sopra lei eh trovo stress bombardamenti è iniziale ok l'ho confermata a posto mi serve un 2p raga no ma dove cazzo? mamma Eh da là, da là Ho ucciso un nemico Sento ste Eh voglio fammi lucare a posto e vedere se pushano guarda Un attimo raga che faccio lo scudo Nemico da questa parte Nemico vicino Stanno sparando Porco dio Ah regà, ah regà, porco dio Dio cane Coperture domani eh Coperture domani, bravi ragazzi Il fatto che quel cazzo di arco di merda Cioè non perde danno la volontà Eh vabbè Soprattutto non riesci a capire da dove ti sparano Boom 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 Grani Grani compagni Neanche un fottuto scudo c'era dio porco Sto tenendo il dio per da parte ma lo buttano E' incredibile figa No lo puoi buttare Neanche un fottuto scudo a dio porco Tutta roba viola e neanche uno scudo Qua ci sono gli amici fritz robin hood Ma si distruggono l'adi alla verità Mi hanno completamente abbandonato come un coglione Mi hanno abbandonato a testa di cazzo Oh qua a sinistra Mi deployano Un ratto eh Sì sì Uno solo Eh niente Che cazzo è andato No te la trovo un mirino Dio porco Hanno respawnato qua Allora calmi calmi Sono ancora sette squadre A fondo dove si vede la gente Dai la valchiria La valchiria con loccato Hanno respawnato È un full team quello Bello vince Bravo Gli sto demolendo gli scudi È possibile che non si knockano? Cioè Sono scappati fuori safe Dove sono andati? Ma non ci credo Niente raga Non ha senso Becchiamo Becchiamo raga Ah sta restando? Nemico sul mio radar Ma prendi coso Prendi quello No sono top Sono top Sono top Occhio Prendi il palloncino Vai figa Io ripuglio il TP E ho da cui Ciao Ciao Guarda dove Guarda dove Eh che cazzo Dove ricaricare i colpi Prendiamo il ponte Prendiamo il ponte Sì sto pensando Anderà a morire più Al triple Però Boh Ricchiamo No fa niente No no dai Avete provato il triple? Sì sto bloccando mezzo L'obbito il triple Figa Cioia Con l'arma lì più Cale Ragazzi abbiamo qua fianco Qua in bolla Qua in bolla Eh sì Appunto Appunto 20 oro Rotta rotta la Vrate Rotta la Vrate Un è bianco Eh lo so Rotta ancora la Vrate Ah da sopra Da sopra Da sopra Giochiamo dietro Giochiamo dietro Replicatore in discesa Giochiamo qua Giochiamo qua Giochiamo qua Giochiamo qua Giochiamo qua Giochiamo qua Ma magari ressalvi amici Giochiamo qua Giochiamo qua Questa roccia raga Questa roccia A questa roccia raga Abbiamo due team lì Abbiamo valchiria dietro di noi Abbiamo un team a destra Arriva la valchiria Devo curare 41 41 Minchia Lo è distrutto con la wingman Daaaah Giochiamo qua E boffanculo ragazzi Troppa gente ancora Sono ancora 6 squadre Dietro di noi un team Dietro di noi un team L'ho visti vulcare di là Ma che forse l'ha capito Che può risciarmi No Ok Ah che cazzo No Mi stanno distruggendo Stanno giibo Occhio Resettiamoci qua D'amica di acceleranti Dammi cazzo Dammi cazzo Arrivano Bolla qua Dammi il casco No Intiro l'acceleranti Copritemi in bolla Questi qua Stavvicinano quelli Quelli di Gibo Proviamo Vediamo No non mi resta Perché è una grandissima stronta Dov'è il team Della varetta Della alchiria Eeeh Sono i top Attento Attento Dobbiamo pillarci un vagone Tra quanto ce l'hai il tp Fra quanto ce l'hai il tp Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ah sono qua fianco Ma restatemi Ma se saliamo sopra Ma è così complicato Dovevo far attirare gente E farsi uccidere Io voglio fare un tp nel vagone C'è un vagon in safe No Siamo già desu il prossimo anello E ai 10 minuti Dov'è un tp nel vagone Sparano Sparano Abbiamo l'ultima destra Abbiamo l'ultima destra Di 5 minuti Easy Raga Andiamo il team qua Ma cazzo lasciatemi Ma come cazzo giocate Vabbè Ci sono Ci sono Ci sono Ci sono Questo che fa Buona Tenoro Mamma mia Questo lago L'arco incapace Porca puttana Siamo qua Siamo qua Uh qua Qua davanti nel vagone Eh tutta l'abbiamo ancora Quattro squadre Fala chiudere Non fatti tirare danno Teniamo il bigone raga Non l'avete nate Siamo morti Senta poi i manti di dentro Siamo morta anche lei Bravi Non ressatemi Non ressatemi Fatevi ammazzare Bravi Ah che bello Bruciano Bruciano art Mi sta bruciando Mi sta bruciando Mi sta bruciando Non bruciano Potevano tranquillamente Ressarmi Per avere un giocatore in più Hanno prevedito morire Bravi Hola Abbiamo anche la 6 vicina Abbiamo la 6 vicina Con la ulti Anche Giammano Ancora il triple Ma quello dove spara A sinistra Dov'è? Rotta Flash L'ho distrutto L'ha fatto 69 flash Sono in giù lì dietro Ah il team del vagone Il team del vagone Il team del vagone Dov'è? Un'altra 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 Io voglio vincere, non voglio i punti Io non voglio i punti, voglio vincere Abbiamo la sei vicino, non facciamo cazzate Avete i respon beacon da tirare? No Ho due di shield Ce lo affianco io qua No, sono ancora lì dietro quelli Quelli dovevo mollarlo con lo spot Mi potevano restare Magari vincevano la fight Sono qua da noi, sono qua da noi, arrivano G-bombolla Distrutto Eh cazzo quello è da dietro Mi ha preso le spalle Porco diaz Ci sono quelli da dietro Vabbè pure il chaos Sì che va bene Sopra di me No L'ho preso il down dal gibo, esco più il down dall'avrate, esco ancora più il down dal locktain Cioè, vabbè Non lo so, sono quelli che ci hanno pushato classimi nel vagone No, 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 no Sono quelli che ci hanno pushato nel vagone No, cinque punti Ho fatto cinque punti No 104, si vuole La legge Allora vincevano Una cosa importante Quando fai il tp Non devi pensare a dove vai quando fai il tp Cioè, se ti dico di fare il tp Guarda la mappa Pensa a dove farlo e vai Sì, l'ho fatto No, prima l'ho visto col tp Ma dove vado, dove vado Non ce l'ho fatto, troppo bordello Non è possibile Cioè, io l'ho fatto 20 euro più 2 Cioè, non è nooo Cioè, non è nooo Cosa? L'avete visto il video che vi ho mandato? Cioè, 30.000 kill con quella zoccoletta 29 kill Allora, oggi guardavo i tracker di Apex per kill, no? C'è già gente che ha 1400 kill con Rai Con Valkyria Vabbè, ma giocano solo con Liber Cioè, dico, non hanno Per finire Ah, avete visto capito che ci sono gli schianti, raga Una sera di queste Vabbè, vado a tirare i sassi contro la finestra E no, abito a Desio Compro i petardi Quando vedo dalla live Che sta dormendo quest'estate, raga Mi lancio i penini e i ciccioli in casa Dal balcone E' strano E' strano No, è 10 minuti di macchina Giuro che lancio i miniciciccioli in casa Vado in live Pago con i biz Faccio all'extra 100 miniciciccioli Poi lo lancio Fa ucchere Eh, su quelli prima Che cosa? Ma non è che è cosa No Chi è quello che sa sparare? Magari Magari una volta ogni tanto farà anche te non fassolo libero Fatti Master l'ha preso il bastardo Sì Mi ha messo con Xanthropos La compagnia l'ha preso Ah, ma mi ha preso la Valkyria Io prenderei Fuse Io prenderei Fuse Siamo rovinati Alla prossima prendo Fuse Ah, è più io roba, dai Andata Eh, lo puoi vedi che è fatta forte Eh, infatti voglio provarla Eh, dito Cioè, diamo tutto libero Tutti tra me Ok, da la pagina Poi ci credo va uno Va anche altro Perché giocare in cularella Eh, dopo lo prendo No, no, no Dai, micchia, ti stai allerando, vero? La prima volta che la usa fuori dal poligono Voglio provare Io vorrei giocare con Due con l'arco, ragazzi Non mi facciamo grandi cose Ah, lo boccaduta Ah, lo boccaduta Ah, lo boccaduta Ah, ah Siamo un cazzo, oh, ma Non c'è rotto le frecce Sì, lo bo mi serve un cazzo Mmm, mi ha dato che è stato E non mi fa accusare il gioco Questo zio è un oro assicurato E infatti Il castello La chiave La chiave qua Allora, ti hanno togliato la lingua Finalmente Porco zio, c'è gente Ah C'è l'ATP per caso? No, mi stani a me Corro, mannaggia a te No, no, non ti stona Ah Beh, comunque son morto Sì, si inviglia con l'arco son morto Sì, si inviglia con l'arco son morto Ho andato a tirare un phoenix, raga Vedete in fra quanto arrivano Sotto secondi Sì, due Oh, ci sono Uno è blu Uno è blu Uno è blu Una laga, ma che cazzo sparano? L'arco Ti sto per ultare in testa Se passi dentro ti Mi sento più vivo quando mi avvicino rapidamente alla morte Oh, yeah Ultimo, ultimo, ultimo Ultimo qua fuori la caverna Vaghemo panica È lì dietro, lì dietro, è locked in Uno, 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 uno Eh, uno anch'io, raga One anch'io, uno anch'io, cazzo Ne ho lockato uno Figa Cazzo figa È questo che dico dei fight Il knock bisogna pigliarsi, cazzo Mamma mia Che nervi, oh Eh, stai, ho fatto i tuoi stessi danni Non è che Io ho one-tappato la reti che mi ha pushato Cioè, quello che dico Piliamocene uno e nocchiamocelo, cazzo Oddio, uno scudo blu, figa È fatto i danni splittati su due persone diverse Quello che dici Abbiamo il vantaggio Abbiamo il vantaggio Siamo dentro l'anello Siamo dentro l'anello Qui c'è un caricatore pesante esteso Livello 2 Non ho bisogno Tra poco la cassa è piazzata Tira dalla La supercella velocissima Cioè, dico, ero dietro lui Controlliamo questo Qui c'è un bocek Branditelo Il potere della caccia vi scorrerà nelle vene Già senti, l'anello sta qua Qui c'è un bocek Branditelo Il potere della caccia vi scorrerà nelle vene Oddio Cazzo Blood down, figa Blood down Cadroia Il potere della caccia Mi servirebbe anche un potere Sinceramente Come bel potere Mi servirebbe uno zaino Vieni coglioni Se ne avete bisogno Qui c'è un caricatore energetico esteso Qui c'è un otturatore per shotgun Livello 3 A prescindere Calcolato No, cazzo I fight Dobbiamo vincere, raga Ci vuole più Più individualità Cioè Boh Mi serve un'ottica per un SMG Quanta gente sta andando Sono bambusol Ci stanno un botto di gente Eh, ma non capisco se sono bambusol Nemico individuato Dai, andiamo in fondo In fondo No, no Ma Master e Predator Questi qua No Sono veri Andiamo da questa parte In fondo sono bambusol No Zaino C'è un nuovo leader Uccisione Qui c'è un R99 C'è un altro insecto No Non sa orri C'è un vault lì sopra C'è un sacco avvistato Lì Stiamo qui a guardare Alversario avvistato Siamo dentro Al prossimo Nemico individuato Nemico individuato Attenzione Variabile aggiunta Dai, che cazzo Lo vede il nemico Guarda Eh, ho capito Ma non vedo una merda Capito Zaino Non li danno più Boh No E' ancora trasparente Comunque Dov'è il cargo? Stiamo scannando Comunque Qua ti serve? Light non ce li ho Ne ho spottato una barcata Mi dai il casco No Mi hanno individuato Non le... Arca puttana Erano qua a terra Aggiungo una nuova variabile Ti vuoi vicino alla porta Sono qua in open che corre Dove va? Zippano Sono tutti e tre Ma hanno già vinto il fight Ma hanno già vinto il fight E' un sacco Orco dio Si, vengono giù Si, si droppano Vanno a usare il mercato Sono qua in open La valete è bianca Brake, flash Tira, c'è fast finder Dai Sono qua sotto Sono qua Si, vedi Fast finder è viola Vendo rotto il battle La mia visione è chiara Eh, becca Rottissimo Eh, si Guarda qua Ho messo un 314 danni Raga Ho messo un 8 di danni Andiamo, andiamo No, ho sfruttato una bianca Chi è che spara con l'arco? Dietro, dietro Eh, da là, da là, da là Ah, no, dietro No, dietro, dietro Via, via, via Arriva, arriva, arriva Minchia, trovo come non vedo più un cazzo Andiamo di saccarlo intanto Oh, cazzo Oh, cazzo Oh, cazzo Oh, cazzo Furo, leggero qua sotto Oh, cazzo Mi ambusciamo qua in caverna Cazzo è una con un'unità Proviamoci Non ha più delle case Beh, proviamo a farlo, no? Magari quelli che ci hanno visto zappare di qua Tanto Abbiamo compagnia là tu Sì, non puoi fare No, però non mi faccio quel cazzo di cazzo Dove ho aprile la cazzo Ho trovato il zaino, stai Ero senza zaino Ero senza zaino Let's start Un momento Uso un kit fenice I partecipanti si sono ridotti del 50 In minchia di ambush eseri manco da solo io, non ho capito? Cioè, vabbè No, no, non è libero a nessuno da là, stai Dai, vuoi fare il cancro con gli ambush Certo E' un'altra squadra Stanno arrivando Sono volati con Valkyria Mi stanno sparando Mi stanno sparando Ricarico gli scudi Sentite? Fightano, eh Fightano, raga Vogliamo rischiare? Non è che secondo per ricaricare gli scudi Ad un knock adesso No, l'ha finita, l'ha finita L'hanno già finita, l'hanno già finita Eh, avevano loot di dio questi Già c'erano la mia viola prima L'hanno tre viola Ancora la casa là Andiamo dall'altra parte, raga Andiamo dall'altra parte Valkyria è sul tetto Mirage è in casa Mirage è viola Un è crack Sì? Gli ultro la casa, eh Ah, quasi knock Gli ho intanto la casa, ho intanto la casa Devo entrare in casa Devo entrare in casa No, no, è entrato in casa Horizon Sono sotto un fuoco nemico Aggiungo una variabile Sto cazzo di arco mi ha cancellato Mentre andavo Octane one shot, octane one shot Attenderò paziente Ricarico gli scudi Il mio marchio di fabbrica Fuoco sul bestial Porto kill tuoi contro di me Porconia Qua Dietro di te, dietro di te Horizon Eeeh, valkyria qua Ci siamo presi Di pushare uno a uno Cioè, ragazzi Non va, quasi Mi dite dovete andare I tuoi vinci Sono andato cattivo io Mi chiamate di pushare Vado, no? Sì, sono andato da fuori Cattivo Ho messo 150 danni a octane Come se fossi entrato Gli ho messo una barcata di danni Dalla finestra Dalle spalle Non si affettavano E hanno le chiusi in casa E hanno le lit shield Attenderò paziente Sto ricaricando Datemi un secondo Sto ricaricando gli scudi Piazzo trappola gassi Qualcuno è passato E ci hanno chiuso Siamo morti Aggiungo un'altra trappola gassi Anche No Tu Non posso vedere tutto. Non lo so, non lo so. Musiziono uno scudo tecnico Passiamo in questo settore Trappola gas spiacciata Sto ricaricando gli scudi Sto ricaricando gli scudi Scuriamoci qui Che palle cazzo 500 danni in assist Porco dio Qualcuno è passato di qui Qualcuno è passato di qui di recente L'anello è vicino Un minuto alla chiusura Andiamo da questa parte Qui c'è un'opportunità Distanza ravvicinata Meglio di niente Meno di un minuto L'anello non è lontano Nemico individuato Lontano Sparo sui soggetti Qualcuno è passato di qui di recente Meno di un minuto alla chiusura Piazza trappola gas Capsule assistenza in arrivo Ci sarà un modo per salire Forse sì Andiamo Sì Qualcuno è passato di qui Come on Come on Come on Come on Come on Ricarico 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 Sto controllando i dintorni Ricarico 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 Nice Quella roba che aveva la squadra ha trovato la morte rimane un minuto l'anello è vicino potrebbero mettere un puntino tipo nelle scie delle canzoni in modo che tutti vanno a scopare qui c'è un'ottica distanza avvicinata l'anello è vicino c'è un po' di gente l'anello è vicino però non possiamo andarci c'è un dietro di noi che viene a rompere la minchia siamo nella casa più esterna se proviamo il contest proviamoci no ma c'è uno sotto spittato qua sotto in casa andiamo in caverna proviamo il contest c'è uno in casa da solo da me flash one shot flash di nuovo one shot knock no occhio che ci sono due altre squadre in casa mi curo tre scudi bianchi hanno sbappato porto giusto attocco di merda stiamo andare in caverna ragazzi tengo gli occhi aperti su questa zona fai strada sono i più forti sopravvivono sono qua quelli vogliamo venire a pigliare i banner vogliamo andare in caverna 5 squadre sono 18 team non si fight a nessuno io vedo le cose attraverso i muri vabbè perché non si fight vuol cercare che io non te lo parti ma si chiara spara con l'arco mi sembra che mi sparano a me 34 blu stiamo facendo due squadre diverse raga il momento è andata in caverna andiamo da paolo se andiamo da paolo abbiamo un team che ci pusha dopo ricordatelo abbiamo un team dietro paolo paolo molla quella cazzo di casa abbiamo un team alle spalle se andiamo contro quelli ci diamo per parte le spalle eh vabbè chi chi a me sparano una mano? vabbè mamma mia compagni che non giocano dio cane che non aiutano figa io posso i compagni che non aiutano figa bravo questo qua bello bello peacekeeper pregato che i nemici sono già su che ti aspettano eeeh non pregato il cazzo con le frecce però oh vi si fa a me ah lo voglio oh zaino mo se fight adesso che ce ne andiamo noi la spara dietro a me dobbiamo affettare eeeh potete tornare trappole caustic metti le trappole ok dai 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 non l'ho portato prima cioè sono là qua anche qua siamo dentro il prossimo anello risultato positivo cosa? mi hanno preso ci ho lasciato quello blu i dini esistono qua c'è un mass che c'è un dino che c'è un dino orca puttana che palla eh tutti a me capitano porco dio avete scelto raga? eh si ti è ti è no ha trovato trovato no ok si ma ho tanti ma fai danno ancora basta ne ho 200 no tieni i caricatori viola faccio il g7 faccio un dino ma che cazzo no 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 boh mi hai spuntato un bocek quasi quasi ti lascio il g7 no eh la luce deve montare la camera se di lui mi si spargo eh per me l'hanno ridotto drasticamente vabbè tanto qua le trovo via vabbè io non hai più niente da niente ti ha sciolta tu cazzo vabbè 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 ho avvi stato un soggetto proprio qui c'è un... c'è un pick-up qua penso di trovare sono ancora leggeri? questo cazzo stava accendo distrutta... eh vabbè c'è un po' peccato un po' di legge ne basta 61 punti eh buoni fatti i vagoni fatti i vagoni c'è un po' di legge c'è un po' di legge ah ma si può craftare già hai da craftare si tu non mi vuoi giudicare nemmeno tu l'horizon che ho ucciso si chiamava G-Dolphin io non ho già sentito quel nome obo eh eh uuuuuh uuuuuh cazzo 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 ma perchè naci o nell'altra? a Ещеn da niente anzi, sai dov'è? qua qua dove c'è il camioncino dovrebbe essere dove c'è il camioncino vabbè si guardo lì no a me non ho perduto tempo Adesso c'ho la moza, vediamo quanto fa, arrivo, arrivo, fa niente Anche no Ho trovato di meglio Dov'è che sono? E qui c'entro? C'è a frammento? C'è un nemico laggiù Vengo d'occhio quel quadrato Lei sono coliore C'è un nemico laggiù, non sai in che guai si sta cacciando Mi servono munizioni energetiche Puglio il tetto della casa? Ha fatto il TP Saliamo sopra, saliamo sopra No, sono volse, sono redeployati Ti copro da sopra Ostile, proprio qui Eh ho capito ma che posso farci Mi sono cagato addosso Va bene ci sono Io venendo volando ho visto una cosa che se n'è andata Uso il rampino No Qui c'è un caricatore leggero esteso Livello 2 Vai che l'altra? Avete messo danni? Sono scarsi, sono forti Sì vanno top di qua ci fossero Sì vanno Sto controllando un nemico proprio qui Ma non vuoi niente No si Audio audio C'è gente qua C'è gente qua C'è gente qua C'è gente qua C'è un team qua Cosa sta facendo? Ma cosa fate cosa? Sono fermo e ti ho detto solamente c'è un team lì Che cazzo sta facendo? Eeeh ho capito Mi sono fermato a vedere lui che faceva il TP Non so cosa stava facendo Cazzo fai di Sì Mi capiscevano il trailo cazzo Siamo incrociati con quelli sotto probabilmente Puoi aspettarci no? Anziché andare dritto su di loro puoi aspettarci Sì Sì Ricarico 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 gli scusi Paolo E' quello da sopra là che Sì da parte Ricarico Ricarico Viola eh E' anche dei ballon come skate Ne cazzo Eh raga Eh raga Se non mi date una fottuta mano raga Se non mi date una fottuta mano mi lasciate da solo Io muoio porco dio Dio cane di quel dio porco Mi sto curando Mi devo curare No no C'è il team qua C'è il team qua E poi ho delle armi di me C'è il team qua E' che muori E' che muori E' buonissima l'avrete Dio porco eh Dio porco dio eh Questa c'ha anche il Ricarico Oh 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 Siete morti amici Siete morti amici Oddio 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 Dio Dobbiamo fare più esercizi in po' di isono, raga, per me è quello. Mica. Eh. Il maggiore è stato eliminato. E io? No? Un solo. Il maggiore. Il maggiore. Il maggiore. Nemico avvistato. Nemico sottotiro. Nemico avvistato. Nemico da quella parte Replicatore in arrivo Nemico in arrivo Nemico laggiù Ostile laggiù Non importa Nemico sottotiro Non importa Oh però Ok Mamma mia Ma non gli scegli andati Anzi non ho fermato Lo stile è proprio qui Ah Dio che noia Oh Dio Lì c'è un trampolino Ok Che vuoi morire che la trovo io E' danno un po' il bazzardo Guarda Non so se neanche dove hai girato Carmi una volta io Ah proprio abbandono i nemici Stai parlando con me? Stai parlando con me? No Ah ok E' blocchevo tutto questo Bah Bah Vabbè Magari Bazzarlo Dall'oro Dall'oro No cercare lì c'è qualcuno qualcuno ha preso la zippa ah no ah no nooo mi ha visto già scara diet mai stare no no basta no spara 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 guarda 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 spara si 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 sono qua sotto eh in casa stanno restando in casa flash flash fatti da fuori mamma mia ha fatto un bel panino nel culo da mia audi quanto cazzo che c'è dove è scappato è scappato è scappato se no oro cazzo è stata la voluta le casse le tasse 18 a cambiare mamma mia che fai schifo mamma mia che fai schifo porco no guarda lì guarda lì guarda lì vabbè mi fermo vabbè non vedo un cazzo no andiamo ci siamo troppo in mezzo al cazzo a a a a a a a a Grazie a tutti.